L'amministrazione comunale promuove le reti d'impresa. È infatti possibile presentare domanda per il bando volto a sostenere le piccole attività produttive e di servizio favorendo la loro adesione a reti d'impresa e per incentivarne capacità innovativa, cooperazione e competitività sul mercato. Le risorse messe a disposizione sono di circa 4 milioni di euro stanziati dal Ministero per lo Sviluppo Economico con la legge 266 del 97. Il Comune di Napoli ha inoltre semplificato la presentazione delle domande con un forte ricorso all'autocertificazione che sostituirà anche il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Il bando, disponibile sul sito web comunale all'indirizzo www.comune.napoli.it slash mese innovazione, resterà aperto fino a esaurimento fondi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Le imprese napoletane che beneficeranno dei contributi dovranno avere sede operative in uno dei 24 quartieri di Napoli compresi nel bando e riceveranno un finanziamento non superiore ai 10.000 euro. A Napoli è il primo Comune d'Italia a sviluppare questo nuovo modo di stare insieme tra le aziende, c'è un finanziamento aperto, fine esaurimento fondi sono 4 milioni, dovrebbero bastare per centinaia di imprese, c'è un bando aperto per le aziende che si convincono che si cresce insieme. È importante crescere insieme per l'internazionalizzazione, per la ricerca, per acquisti in comune, per qualunque idea di rete. Quello che fa il Comune è un bando apertissimo, ben 24 quartieri della città sono interessati e sarà fondamentale muoversi perché appunto i fondi vanno avanti fino a esaurimento e comunque il bando si chiuderà alla fine del 2013.